Conosci Firenze. Un nuovo e appassionante racconto insieme a noi. La scarpa può essere definita un accessorio antico quanto la civiltà stessa, e con essa il mestiere del ciabattino. Se nelle campagne predominava l'uso degli zoccoli, nelle città le calzature erano più elaborate e sicuramente più costose. L'arte della calzatura caratterizzò il periodo d'oro della Firenze medievale e rinascimentale. Infatti, l'arte dei cuoiai e galigai e l'arte dei calzolai erano di grande importanza. Con l'avvento della moda moderna all'inizio del Novecento, molti stilisti fecero fortuna proprio con le calzature. Sebbene l'industrializzazione e le migliori condizioni economiche resero le scarpe accessibili a tutti, rimanevano comunque un articolo costoso. La parsimonia, la mancanza di mezzi e l'abitudine al risparmio rendevano necessario ripararle ripetutamente, utilizzando anche salvapunte e salvatacchi per proteggere le parti più soggette a usura. Le scarpe venivano così passate di piede in piede dal fratello maggiore ai minori. In questo contesto, il ciabattino era fondamentale per la buona conservazione delle calzature. Poteva avere una bottega, ma spesso esercitava la sua professione anche come ambulante per ampliare la sua clientela, sempre accompagnato da suole, chiodi, mastice e cere. Conosci Firenze. Un nuovo e appassionante racconto insieme a noi.